Il progetto è un progetto importantissimo per avvicinare i giovani al mondo del lavoro. Con questo progetto puntiamo inizialmente ad inserire 85 giovani in diversi ambiti legati sia all'industria, al commercio, all'artigianato, anche al settore edile. Ma soprattutto il scopo del progetto è quello di farlo conoscere questo strumento perché in 20 anni di attività abbiamo potuto misurare che non tutti gli imprenditori sono a conoscenza delle potenzialità e anche della facilità dell'utilizzo di questo tipo di contratto. Un tipo di contratto che permette l'inserimento del ragazzo nel mondo del lavoro, gli dà anche una formazione di base di cui tante volte non sono provvisti e gli permette di diventare protagonisti delle aziende in cui vengono inseriti. È un mondo del lavoro che spesso rimprovera tra virgolette i ragazzi di non voler cimentarsi con certe esperienze lavorative. Per quello che è la vostra esperienza avete dimostrazione in tal senso oppure no? Guardi, questo forse è un luogo comune perché i ragazzi una volta coinvolti poi prendono coscienza del tipo di lavoro che devono andare ad affrontare e ne apprezzano tutti gli aspetti, soprattutto positivi. I ragazzi devono essere sfidati e una volta sfidati danno dei risultati che delle volte lasciano veramente a bocca aperta. Noi abbiamo avuto un'esperienza recente formando dei ragazzi con l'apprentistato del primo livello e li abbiamo inseriti in un settore difficile che è quello edile. Posso dire che questi ragazzi, oltre ad aver avuto una formazione che non avevano, tant'è che qualcuno può anche continuare per quarto superiore perché lo strumento lo consente, hanno trovato una grande soddisfazione nelle aziende in cui sono state inserite. E di questo devo ringraziare soprattutto Lance che è stata partner di questo progetto e questo mi conferma che solo con la collaborazione di tutti gli attori, quindi sia associazioni datoriali, sindacali ma anche le istituzioni, certi progetti e certe iniziative possono essere portate a termine. Credo che sia un protocollo interessante e importante perché va a stimolare dei corsi per l'apprentistato, per giovani al di sotto dei 30 anni e quindi per immettere nuova forza lavoro all'interno delle aziende. E ovviamente mai come adesso c'è bisogno un po' di stimolare proprio la forza lavoro e quindi credo che sia assolutamente attuale come protocollo e niente, oggi c'è la firma. Questo del lavoro è un tema molto complesso che non può chiudersi solo con questo protocollo, però oggi sicuramente una parte del segmento dei giovani verrà in qualche modo attenzionato e stimolato.